a qui sei e che fai ora con questo euro e cosa fai le sigarette non devi fumare perché le sigarette fanno male e perché fumi ti compri un bel panino invece come il banjare ce l'hai le sigarette fanno male bere che cosa coca cola birra e alcol solo birra va bene ciao niente ciao come debba andare dritto a destra va bene dritto qui e poi sulla sinistra a destra va bene gli dico che mi mandi tu la signora saporito a va bene d'accordo grazie